Dunque è una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà in Villa Comunale ma anche per ricordare la figura dell'ex sindaco Salatiello Enzo Frascogna di Calvizzano Volley. Ci parli un po' in generale di questa giornata e anche dei programmi della società che dirige? Questa giornata è stata creata solo ed esclusivamente con lo scopo di far divertire tanti bambini, con l'unico scopo lo sport che è sociale e nient'altro. Solo questo, ricordiamo il sindaco Salatiello perché ci ha tenuto tantissimo a far crescere sul territorio le associazioni locali perché ci teneva tantissimo per lo sport, noi quest'anno parteciperemo al campionato FIFA di prima divisione femminile in più con l'Under 10, l'Under 12, abbiamo tantissimi bimbi che si stanno formando i gruppi se ce ne daranno modo noi costruiamo il futuro di questi bimbi. Perfetto, quindi si può dire che lo sport a Calvizzano sta crescendo? Lo sport a Calvizzano sta crescendo con impegno, amore, passione, cerchiamo di risollevare le sorti di questo paese.